Benvenuti a bordo, viaggiatori! Io sono Grizzly. Nel passato di YouTube – e non parlo di YouTube Italia, parlo proprio di tutta la piattaforma YouTube ci sono delle pagine più o meno oscure. Sicuramente la pagina più oscura della storia di YouTube è quella che concerne i prank, quindi il periodo dei prank, degli esperimenti sociali, degli scherzi epici finiti male, che ha avuto degli strascichi che sono arrivati sino ai giorni nostri, strascichi per quanto concerne il cambiamento della piattaforma, per quanto concerne il cambiamento dei contenuti e in certi casi persino degli strascichi giudiziari, come il prankster spagnolo che è stato condannato a risarcire i danni a un barbone a cui aveva dato dei biscotti conditi con del dentifricio e che poi si era sentito male, o il caso molto grave di Deadly of Five – questo canale che aveva basato l'intera propria fortuna su maltrattamenti a dei bambini e che è andato a finire anche, appunto, con degli strascichi giudiziari molto, molto complessi. Bene, oggi vorrei parlarvi di YouTube e di come gli esperimenti sociali su YouTube siano diventati una cosa particolarmente positiva, forse prendendo quella che dovrebbe essere la strada giusta di questa tipologia di video. E ve ne voglio parlare in questo nuovo episodio di Diario di Viaggio on the road. Jimi ha aperto il suo canale YouTube nell'era epoca in cui andavano i prank e i gameplay di Minecraft. Fortunatamente era un bravo intrattenitore, quindi è riuscito ad avere un discreto successo, ma ha anche capito che doveva far evolvere il suo canale YouTube, quindi a un certo punto ha spostato i gameplay su un canale apposito di gaming e, per quanto concerne i prank, ha cominciato a realizzare dei contenuti un tantino differenti, pur restando sempre nell'idea dei prank e degli esperimenti sociali. Io ho scoperto il suo canale YouTube fondamentalmente quando è stato lanciato l'hashtag TeamTrees, quindi quando voleva festeggiare i propri 20 milioni di iscritti, piantando 20 milioni di alberi. Tra l'altro ci sono dei riferimenti specifici sul doobly-doo, ivi compreso il video che avevo realizzato in quell'occasione. Ovviamente sto parlando di MrBeast. Prima di continuare il link del canale sul doobly-doo e sulla scheda, se non lo conoscete andate e iscrivetevi, perché merita veramente. Al di là del fatto di essere un bravo intrattenitore, il suo canale contiene particolarmente prank ed esperimenti sociali. E voi subito mi direte «Ma Grizzly, sei matto? Ci segnali un canale che fa prank ed esperimenti sociali?» Beh, aspettate, ascoltatemi e capirete perché vi voglio parlare di prank ed esperimenti sociali, perché ciò di cui vi voglio parlare oggi è l'evoluzione dei prank ed esperimenti sociali e, in qualche modo, l'evoluzione della piattaforma YouTube. Come è stato con il caso di TeamTrees, e in fondo il video di TeamTrees «Ok, chiamiamo gli amici e proviamo a piantare 20 milioni di alberi», in qualche modo può essere tranquillamente considerato un esperimento sociale. Si riesce a piantare 20 milioni di alberi con qualche amico, no. Ed è qui che interviene il discorso che sto facendo. Jimmy è stato ispirato da alcuni youtuber che hanno fatto degli esperimenti sociali, atti casuali di generosità, random act of kindness. Aveva successo, perché comunque è un bravo intrattenitore, il successo che aveva gli permetteva di far crescere il suo canale, gli permetteva di ottenere sponsorizzazioni, migliori introiti, e allora decideva di reinvestire gli introiti in altri atti di generosità, sino a creare un circolo vizioso più che vizioso funzionale. Infatti tra atti di generosità barra esperimenti sociale potremmo citare, non so, le volte che chiama per farsi consegnare una pizza a casa, quando arrivano con la pizza «Sì, sono dodici dollari» «Guarda, hai il resto di cento dollari?» «No, ci mancherebbe» «Ah, vabbè, non ti preoccupare, tieni il resto». E proprio parlando di consegna della pizza e di mance molto particolare ai ragazzi che consegnano la pizza, il video che vi voglio segnalare ci racconta la storia di un ragazzo che lavora da domino, viene lì a consegnare la pizza, il team di Jimmy lo convince a dare loro una mano. C'è questo nostro amico, Chad, che viene in città, ha preso la casa da poco, dobbiamo sistemarli e la dobbiamo prendere i mobili su pellettili, tutta questa bella roba qua, trasportare mobili, montarli. Se ci dai una mano, ti diamo 2-3 mila dollari per fare questa procedura. E in realtà il prank è che poi, alla fine della serata, dopo un'intera giornata trascorsa comprando mobili su pellettili, montando tutto eccetera eccetera, gli dicono «Bhe sai, purtroppo abbiamo speso tantissimi soldi nel comprare mobili su pellettili, quindi non ti possiamo dare i 2-3 mila dollari che ti avevamo promesso». Tuttavia, per farci perdonare... e non vado avanti. Quindi il primo video che vi segnalo del canale, molto molto d'ispirazione, molto carino, anche molto ben fatto a livello di intrattenimento e a livello di contenuto, è «Ho ordinato una pizza e lasciato la casa come mangia». Video linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate dategli un'occhiata. Parlando di esperimenti sociali, vi segnalo un video. In questo video Jimmy compra un milione di dollari in Biglietti Gratta e Vinci . Di questo milione di dollari dice «Quello che io vincerò con questi biglietti, lo investirò nell'acquisto di un'isola deserta». Chi mi dà una mano, viene con noi su quest'isola deserta, faccio una specie di challenge, l'ultimo che riesce a resistere a questa challenge riceverà in omaggio l'isola. E voi subito mi direte «Ok, ma qual è l'esperimento sociale». Presto detto, lui spende un milione di dollari, acquista 165.000 biglietti della lotteria, Gratta tutti questi biglietti, la vincita finale è di poco più di 700.000 dollari. Scusate, ve lo ripeto, magari meglio, lui spende un milione di dollari, compra 165.000 biglietti della lotteria e alla fine perde poco meno di 300.000 dollari. Infatti, il 23 settembre, Jimmy esce con un tweet questo. Ho realizzato quattro video, nei quali acquisto 30.000 dollari, 50.000 dollari, 100.000 dollari e addirittura un milione di dollari in biglietti Gratta e Vinci, e tutte e quattro le volte ho perso denaro. Quindi non comprate biglietti Gratta e Vinci! Prima di andare avanti, link del video sul doobly-doo e sulla scheda, andate, dategli un'occhiata e poi rendetevi conto di che cosa significa aver acquistato 165.000 biglietti della lotteria Gratta e Vinci. Ci sono persone che, in tutta la loro vita, non acquisteranno 165.000 biglietti complessivamente, lui li ha comprati per farci un singolo video. E pur acquistando 165.000 biglietti, pur avendo investito un milione di dollari, alla fine la perdita è stata del 30 per cento. Sicuramente una importante lezione. Concludiamo con un video un po' più leggero. Jimmy decide che vuole far adottare tutti i cani di un rifugio. E lo fa facendo campagne pubblicitarie, lo fa facendo tutta una serie di azioni, lo fa offrendo dei regali alle persone che fanno poi l'adozione . Ed è molto simpatico, soprattutto nel richiamare l'attenzione sul fatto che sia possibile andare ad adottare cani presso un rifugio. C'è anche una cosa bellissima che fa una famiglia che adotta una Labrador un po' più avanti nell'età, perché è giusto che possa vivere gli ultimi anni della sua vita in una casa amorevole, quindi sicuramente è un video veramente molto bello, con delle trovate divertentissime in merito a questo discorso della grande capacità di intrattenimento di Jimmy e del suo team. C'è questa scena divertentissima, mentre stanno per far adottare un altro cane, sono tutti eccitati, si spacca la sedia, e allora ecco che vediamo, anziché il classico un'ora dopo, una sedia nuova dopo! E quindi il terzo video che vi segnalo è «Ho adottato tutti i cani» link sul doobly-doo e sulla scheda, andate, dategli un'occhiata, vedrete appunto quali sono le simpaticissime doti di infrattenitore di Jimmy e del team dei ragazzi, e vi consiglio di dare comunque in generale un'occhiata ai video del canale MrBeast, in particolar modo ai video degli ultimi due anni, che sono quelli più ispiranti, più ben curati e dove ci sono tantissime cose che sono state realizzate proprio come atti casuali di generosità, i random act of kindness, che naturalmente non è una cosa che si è inventato con il canale MrBeast, è una cosa a cui è stato ispirato anche lui da piccoli esperimenti sociali con questi random act of kindness che c'erano sulla piattaforma. E infatti il canale di MrBeast e il personaggio di MrBeast stanno puntando a migliorare il mondo, anche un pochino anche di quella semplice virgola che si possa fare, cercando di realizzare delle attività, o anche questi semplici video, questi esperimenti sociali, affinché siano di ispirazione alle altre persone, magari non a realizzare lo stesso tipo di esperimento sociale, perché naturalmente sono richiesti molti soldi per andare a fare una situazione di questo genere, ma principalmente proprio per essere d'ispirazione a cercare di migliorare il mondo in cui viviamo. È certamente un modo veramente molto bello di utilizzare la piattaforma YouTube, che purtroppo nel suo passato ha avuto tante pagine oscure. Questa può essere una pagina particolarmente positiva. Se con TeamTrees siamo riusciti a superare il traguardo dei 20 milioni di dollari di donazioni e a tutt'oggi continuano ad arrivare donazioni, sicuramente lo si deve al fatto che in tantissimi siamo stati ispirati positivamente da questo tipo di comportamenti. Ed ecco quindi che l'argomento del giorno si riassume semplicemente nella mia domanda «Voi che cosa ne pensate?» Eravate a conoscenza dell'esistenza di questa tipologia di contenuti su YouTube, realizzati principalmente per ispirare positivamente le altre persone? Avete visto, nel passato o tutt'ora, altri esempi positivi sulla piattaforma, questi random act of kindness o qualcosa di simile? Ebbè, non dimentichiamo che grazie a questi atti di generosità c'è stata la grandissima diffusione, per esempio, dell'Ice Bucket Challenge, ed è stato un momento molto positivo nei social, che ha permesso tantissimo di raccogliere fondi e di far andare avanti la ricerca sulla S.L.A. e su tante altre malattie genetiche, quindi sicuramente i social possono essere questo luogo positivo. Ma mi piacerebbe sentire un po' non solo che cosa ne pensate voi, ma se avete altre esperienze di questo livello di positività che volete raccontarmi, potete farlo nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDPOTR. Come sempre, grazie per essere arrivati in fondo al vlog, vi invito a mettere pollice in alto e condividere con i vostri amici anche su WhatsApp, Telegram e le altre app social, magari proprio per ispirare anche i vostri amici a fare qualche piccolo atto casuale di generosità. Iscrivetevi al canale, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Vedete? Basta poco per migliorare anche il mio canale YouTube. Vi ricordo il canale Telegram, sul doobly-doo e sulla scheda per notifiche, piccole curiosità e dietro le quinte. Infine, segnalatemi in un commento se volete che io tratti qualche argomento particolare. Io sono Grizzly e questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!